Canicchiatti calcio tra campionato e fase nazionale di Coppa Italia dilettanti. Saranno giorni frenetici, i prossimi in casa Biancorossa. Intanto è stato chiesto alla Lega di anticipare la gara in programma domenica pomeriggio valida per la ventitresima giornata di eccellenza in trasferta col Parti Nicodace a sabato 23 febbraio alle 15. La società avversaria ha dato il proprio assenso e la Lega Sicula della FIGICI ha ratificato lo spostamento della data. La società canicchattinesa ha chiesto di anticipare di un giorno l'importante match di campionato perché mercoledì prossimo, 27 febbraio, la squadra sarà impegnata a Corigliano Calabro per gli ottavi della fase finale nazionale di Coppa Italia. Si gioca l'andata in Calabria e il ritorno a Ravanusa il prossimo 6 marzo. Intanto si spera a difendere il secondo posto del campionato eccellenza Girone A a meno 6 punti dalla capolista licata per la Coppa. Poi si vedrà il Canicchiatti non vuole mollare la presa. Ieri pomeriggio presso il stadio comunale Saraceno di Ravanusa è ripresa la preparazione atletica dei giocatori del Canicchiatti in vista della gara col Parti Nicodace. Da oggi gli allenamenti agli ordini del tecnico Nicola Terranova proseguiranno presso lo stadio Carotta Bordonaro di Canicchiatti. Questo perché lo stadio in cui gioca il Parti Nicodace non ha un fondo in erba sintetica ma come il Carotta Bordonaro è in terra battuta. Questo favorirà una maggiore consapevolezza dei calciatori che dovranno adattarsi ad un fondo che purtroppo non ne calcano dallo scorso 30 di settembre quando a Canicchiatti si è giocato il derby con Licata nel girone di andata. Si lavora tanto per portare questa squadra a fare delle belle prestazioni ha detto il tecnico Nicola Terranova e naturalmente ottenere risultati importanti. La partita più difficile è sempre quella da disputare. La gara di andata della fase finale della Coppa Italia Nazionale coincide però con il turno di campionato che la Lega aveva previsto per il 27 febbraio. Per quell'occasione il Canicchiatti per la 24esima giornata la nona di ritorno doveva rendere visita al Profavara ma essendo la Coppa una manifestazione nazionale che ha priorità sull'impegno del torneo regionale il derby con il Profavara sarà recuperato il 13 marzo alle 15.